La città oggi ha tutte le chiavi che consentono di aprire le porte, che ci possono consentire di far crescere la città ancora. Così il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, nella conferenza stampa di fine anno, un bilancio positivo, quello del 2022, secondo il primo cittadino. Eppure Arezzo è oltre la cinquantesima posizione nella classifica delle province italiane, secondo il Sole 24 ore e la vicina Siena è quarta. Le zone periferiche sono sempre più dimenticate, ci raccontano residenti e commercianti. Di poche ore fa anche l'invito di Valeria Alvisi di allargare la pur meritevole iniziativa della città del Natale anche ad altre zone della città che altrimenti rischiano di essere solo un parcheggio. Per non parlare poi della sicurezza, soprattutto negli ultimi mesi dell'anno, c'è stata un'escalation di furti e micro e macro criminalità che fa davvero molto preoccupare. Devo dire che la nostra attenzione è massima, il sistema di controllo e di repressione che fa capo al Comune è attivo, non è attivo 24 ore su 24, sapete che uno degli obiettivi che abbiamo è proprio quello di renderlo attivo per 24 ore su 24 acquisendo nuovo personale. Però insieme alla Prefettura, alla Questura, al Comando dei Carabinieri e della Guardia di Finanza lavoriamo e continueremo a lavorare ancora di più per cercare di ridurre questi rischi che oggettivamente ci sono. E poi il tema dei temi per ogni amministrazione comunale, le buche che adesso in alcuni punti della città sono diventate davvero voragini. Io ho chiesto pazienza perché in questo momento la struttura amministrativa e tecnica del Comune è ventre a terra, lavorare sul PNRR che è il nostro obiettivo immediato perché sapete tutti che si deve chiudere entro il 2026. Quindi progetti, affidamento dei lavori, gestione dei lavori. Non appena potremo allentare la pressione su questo avremo le risorse anche umane per poterci dedicare a una manutenzione che si configura a questo punto per certi pezzi di strada addirittura straordinari, non più ordinari.